Avere i pidocchi nel 2014 è una cosa normale. Sì, avete sentito bene, per una solerte insegnante o dipendente dell'Istituto Comprensivo Mario Zippilli di Teramo, lo è. Almeno così ci ha detto per telefono questa mattina, quando dopo la segnalazione di un genitore che ci ha comunicato che suo figlio aveva i pidocchi e che altri compagni di scuola ne avevano, abbiamo provato ad informare la scuola ritenendo che si trattasse di cosa grave, che andava comunicata al più presto. La risposta, come detto sopra, è stata che la pediculosi, così si chiama, è normale in una comunità dove ci sono più ragazzi. Ai nostri tempi, o perlomeno ai tempi di coloro che hanno una cinquantina d'anni e che sono andati a scuola negli anni settanta, avere i pidocchi era una vergogna. Era il simbolo di scarsa pulizia e di scarsa attenzione da parte dei genitori nei confronti dei propri figli. Magari i tempi saranno pure cambiati, ma per chi la pensa come noi, continua ad esserlo. Se proprio vogliamo risalire a quando avere i pidocchi era una cosa normale, dobbiamo pensare alle scuole degli anni 10, 20 e 30 dello scorso secolo, alle trincee della prima guerra mondiale e ad altro di simile. Se io fossi un genitore con il figlio che frequenta una scuola dove ci sono i pidocchi, sarei preoccupato. Se fossi il dirigente scolastico o un dipendente di quella scuola, lo sarei ancora di più. La signora, gentile e anche un po' aggressiva in verità, preoccupata, non lo era per nulla. Almeno per i pidocchi. Speriamolo diventi, perché magari all'interno dell'istituto, qualche ragazzino un po' troppo intraprendente, sembrerebbe giri con lattine di birra regolarmente consumate nei bagni. Ecco, è vero che la scuola non risponde della pulizia e dell'igiene dei bambini, ma devono farlo le famiglie. È altresì vero che la scuola deve rispondere del comportamento dei ragazzi all'interno dell'istituto e vigilare. Vigilare attentamente su tutto, consumo di alcolici, sicurezza dei ragazzi e, perché no, anche sui pidocchi, già che ci siamo. Ci creda la signora con la quale abbiamo parlato. Non farebbe male.